Si chiama Urslan Kanna, è un giovane uomo straniero che è rimasto piuttosto colpito in quanto avrebbe visto 122.000 sterline del suo conto in banca. Il giorno prima di questa scoperta pensate che aveva soltanto una sterlina e basta. Era una somma enorme di posizionare sul suo conto bancario dopo aver segnalato il deposito molto inaspettato, un uomo di 41 anni d'età ha fatto sapere che il denaro era il suo e poteva quindi darlo a tenere. Ma la gioia si è trasformata in una devastante tristezza assoluta. Infatti pensate che la banca ha deciso di fare l'inversione di marcia costringuendolo, o meglio obbligandolo, a restituire l'intera somma di denaro. Insomma, non si sarebbe mai aspettato di dover ridare la cifra economica in questione. In pratica infatti ci sarebbe stato un errore. In particolare il denaro sarebbe stato destinato ad un altro cliente di Gatehouse, questo istituto di credito, ok? Che stava cercando di spostare il denaro da un conto all'altro. Va bene? Insomma, è stato danneggiato, è stato beffato, è stato, come si dice qui, tra le parti letteralmente per il suo per il culo. Il video termina qua. Iscrivetevi al canale Narrato Italiano, commentate. Ciao a tutti e una buona giornata.